A nove anni dalla tragedia del Bataclan, Giorgio Albè ricorda quei giorni. Mentre la furia del terrorismo si abbatteva su persone inermi, l'avvocato Bustocco era a Parigi per visitare una mostra fotografica. Rammenta per filo e per segno la paura, la tensione, il suono continuo delle sirene, lo smarrimento di una capitale sotto shock. Ciò nonostante quella strage, innescò una splendida reazione artistica firmata a Banksy, geniale e misterioso artista che dipinse la porta del Bataclan in omaggio alle vittime. Questa fu poi trafugata, ritrovata e fuoriera di un procedimento ancora in corso e basato su un punto di rimente a chi appartengono i murales. In proposito da appassionato e cultore, Albè ha precorso i tempi, chiedendo diversi anni fa degli street artist di esprimersi liberamente. Abbiamo preso due street artisti, penso un 15 anni fa, e gli abbiamo fatto fare un murales all'interno del nostro studio, all'interno del giardino dove si trova il nostro studio, che uscendo si trovano sulla sinistra e questi due artisti erano stati completamente liberi di realizzare l'idea che avevano ritenuto più vicina o più consona alla loro ispirazione. Ed eccoci al punto. Non capisco l'atteggiamento di chi riceve un'opera di questo genere da qualcuno che la fa senza avere nulla in cambio o senza volere nulla in cambio. Però è un atteggiamento non giuridico il mio, metagiuridico.